Paro di Lettoso è la più antica vetaria del mondo, siamo nati nel 1295, siamo a Murano, facciamo lampadari prevalentemente e abbiamo voluto dare a Paolo Navone l'incarico di fare un allestimento con le nostre cose perché pensavamo potesse interpretare al meglio quello che è il senso del nostro vetro. Lei si è sbizzarrita con un'installazione in blu, come vedrete molto buia, con dei giochi di luce strepitosi prodotti in tutti i colori, in tutte le varianti del blu. Proverete entrando alcune applique attaccate su delle tavole di legno, successivamente entrerete in un'area con un grande lampadario che è uno dei nostri lampadari più importanti, potrete andare a sedervi su dei grandi divani di fronte a una parete alta a 4 metri di lampade e poi in uscita ci saranno degli omini che vi saluteranno e vi diranno grazie e vi avviene verso l'uscita.